Noi riusciamo a finirne una senza la piccola pecca, lo sballone, prestazione meravigliosa e noi siamo gente dei valori, siamo amici dei stramaccioni, stavamo un classe di cioni non ci rompe i coglioni, non ci rompe i coglioni, non ci rompe i coglioni, senza far pulirla e nella vita ci vogliono anche momenti di leggerezza, due amici, il cappelletto questo c'è da tua, c'avi già stato capociuno appena nato? No, me l'ha regalato Pupo, Roberto Tico e allora ci si ritrova a casa, di cashmere, è un po' caldo però per il 2 settembre va bene, sai vi regalano i cappelli di cashmere una boccia di Asshuang, 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 che ha portato bene perché all'Inter treme, treme Moratti butta la pasta? Moratti butta il petrolio Moratti, il petrolio è un po' caro, ma stasera butta la pasta sta benzina Moratti, te lo dobbiamo venire a prendere in azienda oh, guarda che bella azione l'hanno fatto, bravissimi bravo Schneider, ostentatore positivo la vita è anche questo, momenti di leggerezza, momenti di semplicità forza Lazio, forza Lazio, forza Lazio la Lazio è una squadra poverina vabbè la Lazio e la Lazio, è importante ma no, no, non pare ma scusi, 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 lo so che questo è un canale di musica ma no, è un canale di super sport senza, oh Moratti Moratti, guarda che faccia che c'è guardalo un attimo, guardalo ma che è una cera, è una mummia, è un canale ma che è una mummia era il museo delle cene era il museo delle cene, ma perché era così tristino Roma, Roma, Roma ma perché lui è tristi? il petrolio sta scendendo questa è la dimostrazione che i sordi non fanno la felicità aiutano a vivere meglio ma quando prendi tre pappine dai poveri romanetti che hanno avuto bisogno degli americani per portare un po' di capitale Pallotta si chiama il presidente quello della pizzeria di Monteneglio Pallotta, da 1897, Pallotta guarda quanto mi sono fatto con le pizze pure le pizze ah, pizza qua, pizza là James Pallotta una pizza qua, una pizza là a pizza due euro in date anche un fiore di zucca pure l'amicizia, ma quanto è bella quanto siamo disinteressati quanto siamo spensierati ma devi dare mille euro questo ti ricordi? avanza un buffo? domani se ricomincia a lavorare Erpaiolo e viva la vita ci vado con il sorriso la mia Roma mi ha messo il sorriso domani vado a Ponza io comincio a lavorare quanto ti amo viva la vita faccio il sub subacqua non snorferista